Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non lo sapesse, io ho posseduto un Honda Hornet 600 per circa due anni. E proprio sotto quei video sto ricevendo qualche commentino che mi chiede cosa ne penso della nuova Hornet 750. Infatti la notizia della presentazione della nuova Hornet 750, se non sbaglio, è uscita circa una settimana fa. Io ora ho visto anche i video di Andre Cervone e Totorider che ci hanno fatto un video, tra l'altro, dallo stesso titolo. Non avete capito un cazzo della nuova Hornet 750? Le ho visti... e niente. Diciamo che a me la notizia in sé di questa Hornet 750, sì, inizialmente mi ha colpito perché come sapete il brand Hornet, cioè il modello Hornet della Honda, è stato un modello iconico, soprattutto il primo modello, quello che ho posseduto io. Già la seconda serie, quella uscita nel 2006-2007, una cosa del genere, non ha avuto molto successo. E questa nuova esteticamente sembra molto simile rispetto alla vecchia Hornet. Allora, partiamo subito da un presupposto, per chi non lo sapesse, ma penso che tutti voi che state guardando questo video lo sapete. La vecchia Hornet 600 era un quattro cilindri in linea, molto ignorante, secondo me, abbinato a quella ciclistica, non al top, soprattutto nella prima serie, quello che avevo io. La rendeva una moto abbastanza ignorante, nel senso che si impennava facilmente, soprattutto di prima, nonostante il peso che ad oggi può sembrare una moto pesante, perché era circa 180 kg a secco, se non ricordo male. Però era abbastanza agile, si derapava, si impennava. La seconda Hornet non l'ho mai provata, però già era migliorata un po' a livello ciclistico, aveva poi qualche chicca, tipo la strumentazione, anziché analogica digitale. Io comunque non l'ho mai provata, quindi non so le differenze, però devo dire che non ha venduto tantissimo la seconda Hornet e già aveva perso un po' di appeal. Adesso Honda sta cercando di rilanciare il brand, diciamo il modello Hornet, soprattutto perché il mercato delle naked entry level, possiamo dire così, è dominato da MT-07, poi c'è anche la Kawasaki Z650, l'Aprile Autuono col motore 660, la Triumph con la Trident. E adesso quindi Honda, che vende anche la 650 4 cilindri, che anche qui è poco venduta, si inserisce con questa nuova Honda Hornet 750. Quindi per chi ancora non lo sapesse, la nuova Hornet 750 non sarà un 4 cilindri 750, ma sarà un bicilindrico, un motore completamente nuovo, a scoppi regolari, quindi con gli scoppi a 270 gradi, simile a quel CP2 della Yamaha che però sviluppa 74 cavalli. Invece questo dell'Hornet ne dovrebbe sviluppare 92, quindi praticamente 18 cavalli in più, che su una moto di media cilindrata, perché ormai 750 viene considerata quasi una media cilindrata, non più una grossa cilindrata, sarà abbastanza. Quindi sarà anche depotenziabile e guidabile con patente a 2, perché con la nuova legge la moto da ripotenziata non deve superare, se non sbaglio, i 95 cavalli. La ciclistica sembra una ciclistica abbastanza entry level, però avrà la forcella a steli rovesciate, anziché la forcella a steli tradizionali come per esempio sull'MT07, che è la Naked più venduta. E a livelli di elettronica, non sarà magari a livelli di Aprilia, che ha la piattaforma a sei assi, cose esagerate, quindi traction control, cornering, ABS cornering, mappature, anti impennata. Però avrà comunque traction control senza piattaforma iniziale, quindi per intenderci come sulla mia 0.9, il modello precedente. Avrà ABS, avrà le mappature, se non sbaglio avrà anche l'antimpennata, quindi avrà comunque abbastanza elettronica. Abbinata al prezzo che, se non sbaglio, sarà di 7.990€, quindi 8.000€, quindi al pari di un'MT07 e inferiore per esempio all'Aprilatuono 660, La moto quindi teoricamente sarà molto appetibile per chi vuole una moto di questo tipo, quindi una Naked in tri-level per iniziare, magari depotenziabile e guidabile con patente a due, ma poi una volta ripotenziata, una moto già importante perché 92 cavalli non sono male. Il peso sarà sempre intorno ai 170-180 kg a secco, la ciclistica appunto sarà in tri-level, però il pacchetto in generale sarà molto buono. Cosa ne penso quindi da ex possessore di Hornet 600? Quando sento Honda Hornet nella mia mente penso subito alla prima versione dell'Honda Hornet, quindi a quella che possiedo io e già non penso alla versione passata. Questa Hornet 750 invece sarà una moto completamente diversa perché appunto cambia il motore, cambia tutto, praticamente cambia il telaio, cambia tutto, però è molto simile alla vecchia Hornet. Secondo me non è detto che sarà un fallimento, che sarà un flop come molti dicono, ma allo stesso tempo penso che dipenderà tutto dalla prova, dalle sensazioni che dà alla guida. Perché la prima Hornet effettivamente con quel sound fantastico e con quel mix tra motore esagerato e ciclistica passabile, diciamo, ma non di alto livello, dava tantissime emozioni. La seconda Hornet secondo me già non la dava, nonostante magari era migliorata su molti aspetti. Quindi secondo me tutto dipenderà da come sarà da guidare, più che dal nome, non penso che la gente comprerà la Honda Hornet soltanto perché si chiama Hornet, perché ha 92 cavalli, perché è 750 eccetera eccetera. E sarà tutto da vedere come sarà la guida, quindi sarei curioso di provarla, spero di provarla. Per quanto riguarda il passaggio da 4 a 2 cilindri, non mi stupisco più di tanto, io non sono un amante del bicilindrico, devo essere sincero, perché a me le moto piace tirarle. Allo stesso tempo però capisco che in 4 cilindri strada è poco sfruttabile, soprattutto più si cresce di cilindrata, più poi è difficile tirarle il collo e quindi non è divertente. Perché quando si fanno strade con le curve, a momenti non si riesce nemmeno a far entrare il motore in coppia. Anch'io per esempio negli ultimi anni, come sapete, sono passato da un 4 cilindri a un 3 cilindri, secondo me è il giusto compromesso perché comunque ha un'ottima coppia e bassi, però ha pure l'allungo. Il bicilindrico invece, beh, molte volte non mi è piaciuto, per esempio la torso duro l'ho venduta subito perché non mi piaceva il modo in cui erogava la potenza, ma anche qui è da provare perché per esempio l'MT07 mi piace come erogazione, altri bicilindrici invece non mi sono piaciuti, quindi sarà da provare. Poi per quanto riguarda il discorso del nome, perché molti dicono sì ma non sarà un Hornet, non lo so, a livello di marketing sicuramente il nome Hornet fa discutere, tant'è che se si fosse chiamato in un altro modo probabilmente non ci avrei nemmeno fatto il video e penso che anche altri miei colleghi non ci avrebbero fatto il video se si fosse chiamata Honda CB750 per esempio. Invece il nome Hornet è proprio un nome che, diciamo, stuzzica i pensieri e il cuore degli appassionati. Secondo me hanno fatto bene comunque a creare un nuovo motore da zero, bicilindrico 750 a scoppi regolari. So anche che questo motore probabilmente andrà sulla Transalp 750 o Africa Twin 750, comunque un adventure enduro, touring di media cilindrata. E qui Honda sta seguendo il filone, diciamo, di Yamaha di fare un motore e poi riproporlo su naked, turistiche, sportive. Un po' come per esempio ha fatto appunto la Yamaha con R7, MT07, TNR700 che alla fine è sempre lo stesso motore con i rapporti cambiati. Questo in un mondo dove ci sono sempre più regolamenti sull'antinquinamento, quindi ci si può giocare meno con la fantasia e con la sperimentazione di motori. E in un mondo dove sappiamo che ormai lo sviluppo del motore endotermico si è praticamente bloccato, fra una decina d'anni probabilmente ci saranno soltanto motori elettrici, ahimè perché sono un amante anch'io del motore a scoppio, no? E effettivamente è una soluzione questa per le case, molto buona per ammortizzare i costi, fare un motore che va bene per tante tipologie. Questo appunto ha dei pro, risparmio sicuramente dei costi a livello ingegneristico, però poi alla fine il motore va bene un po' per tutto ma non eccelle niente. Un po' come il CP2 della 07. Però questo per chi non cerca situazioni estreme come fare il tempo in pista o la moto perfetta per l'enduro per intenderci, va bene diciamo per l'utente medio. Poi magari a livello di soluzioni tecniche un po' più raffinate le moto che usciranno fuori non sono al top, ma non è detto che non vadano bene. Infatti per esempio la TNR700 secondo me è un'ottima moto da enduro, l'R7 è un'ottima moto sportiva entry level e la 07 è un'ottima naked. Quindi vedremo. Se vivessimo in un mondo perfetto dove il marketing non avrebbe la sua importanza, magari sarebbe stato bello non chiamare Hornet questa nuova moto, visto che comunque non c'è assolutamente nulla di Hornet. Però vedremo poi alla fine se manterrà quell'ignoranza della prima versione. Secondo me no, sarà una moto alla fine buona, valida, almeno sulla carta sembra valida, però poi si deve vedere che emozioni trasmetterà. Vedremo quindi, spero di realizzare un test ride, nel caso vedremo come andrà e vi farò sapere cosa ne penso. Perché alla fine a me non piace tantissimo guardare le moto dalla scheda tecnica invece di più provarle, perché a volte le sorprese sono molte. Per questo video è tutto, ne ho approfittato per fare un nuovo video magari infrasettimanale, così ne faccio due, visto che molti di voi mi hanno chiesto che cosa ne pensavo di questa Hornet 750. Fatemi sapere comunque nei commenti cosa ne pensate, sono curioso. Lasciate un like al video per supportarlo, se non sei iscritto iscriviti. Vi lascio nella linea in alto a destra vari video di viaggio, Portogallo, Slovenia, Bosnia che ho fatto con la 09 e altri video. Se non li avete visti, guardateli, mi fa sempre piacere. Ci vediamo nel prossimo video.